Amici, ma perché è morto allora? Assolutamente. Perché è morto? Chi sa come puro io, le mie indicazioni sono note. Vabbè, allora, lei non risponde, come vedete non risponde alle domande. Stacca su di me, stacca su di me, stacca su di me. Non è accettabile non rispondere alle domande. Non è accettabile non rispondere alle domande. Quindi lei può parlare, ma io non accetto chi non risponde alle domande. Amici, dottore Amici, lei deve rispondere alle domande. Non può fare monologhi. Perché è morto Trecca allora? Lei ha detto prima che nessuno è morto di quelli che ha curato. Non l'ha curato lei, Trecca. Era una persona che stava attaccata a lei. Era attaccata a lei. Giorno e notte, Trecca. Di cosa è morto, Trinca? Non lo sappiamo. Cioè, lo hanno ucciso. Non lo so, io non faccio complottista. Quindi sicuramente non lo hanno ucciso, come dite, come volete fare. Oppure volete sostenere che altri lo dicano. Trinca purtroppo è morto di malattia. Quale malattia? Quale cura? A quale cura è stato sottoposto? Perché io dico, e lo affermo questa sera in maniera assoluta, di Covid non si muore. Si muore soltanto per terapie incongrue. Guarda Mariano, ho detto prima, non mi faccia come il bambino delle elementari. Ho detto prima, con Trinca non so di cosa è morto. Bene, fermi. Mezzana? Allora, guarda, le risposte sono rapide.